Diffondere la cultura della contraccezione tra le donne, soprattutto straniere, e contrastare di conseguenza la piaga degli aborti che vede la provincia di Foggia al primo posto in Puglia con quasi 1200 interruzioni volontarie di gravidanza ogni anno, un quarto delle quali eseguite da immigrate. Questo l'obiettivo del progetto presentato all'AS di Foggia, realizzato in partnership tra l'azienda sanitaria di Capitanate e l'associazione Solidania Onlus. Un invito alle donne a ricorrere alla contraccezione realizzato in modo diverso dal solito. La prevenzione esce infatti dai consultori e dalle strutture ospedaliere, coinvolgendo principalmente le cittadine immigrate, arrivando nei luoghi di maggiore aggregazione abituale in cui è più fitto lo scambio interculturale. L'iniziativa partirà nelle prossime settimane. Con un camper, con suo anche immediatore culturale, noi gireremo per i posti della normale aggregazione delle persone, che può essere davanti alla vita comunale, può essere in campagna, può essere la parrocchia degli ortodossi. Non escluderemo nessun posto dove abitualmente si incontrano le donne. Daremo a queste donne dei deprianti in più lingue sui metodi contraccettivi e le inviteremo al consultorio più vicino. Il progetto vuole rappresentare la sperimentazione di un modello che integra il servizio pubblico con il privato. Salvaguardiamo le donne andandole a trovare, come si dice, sul posto, perché abbiamo approfittato di un mezzo mobile, un ambulatorio vero e proprio mobile che fa da supporto al sportello di cittadinanza per raggiungere queste donne sul luogo di lavoro.